Ben trovati dal Tg della Mobilità, dal lunedì 4 ottobre a venerdì 8 ottobre, lavori di manutenzione sul percorso tramviario di via Marmorata. Il cantiere si svolgerà di notte a partire dalle 21 fino alle 4 del mattino, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Nelle serie di cantiere bus navetta per la linea 3 tra Piazzale Ostienzi e la stazione di Trastevere, bus sostitutivi anche per la linea 8, ma sull'intero percorso tra Casaletto e Piazza Venezia. Elezioni amministrative per le giornate del voto, domenica 3 e lunedì 4 ottobre, è previsto un servizio di trasporto per gli elettori disabili dal domicilio al seggio. Il servizio va prenotato via telefono, tutti i dettagli sul portale comune.roma.it.